Un uomo ha perso la vita questa mattina per un incidente stradale autonomo poco prima di mezzogiorno in via Fratti a Pesaro. A perdere la vita è stato Carlo Alberto Diotalevi di 80 anni, residente a Pesaro, che a bordo del suo motocarro a tre ruote stava percorrendo il tratto sterrato di via Fratti che conduce in una zona di vita ad orti per anziani ed alcune strutture ricettive. Per ragioni ancora in via di accertamento Diotalevi ha perso il controllo del mezzo, forse per malore, forse per distrazione o per qualche altra causa e si è ribaltato sulla carreggiata dalla parte del fossato rimanendo ucciso sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi all'ottantenne da parte del personale del 118 arrivato sul posto oltre ad un mezzo dei vigili del fuoco. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per i rilievi di legge è intervenuta sul luogo dell'incidente un'unità della Polizia Locale di Pesaro.